Prenderanno il via la prossima settimana, a condizioni meteo permettendo, le operazioni di recupero dello yacht a Tina. L'imbarcazione aveva preso fuoco lo scorso 10 agosto di fronte alla spiaggia delle Saline. A bordo c'erano 8 persone di nazionalità turca che erano riuscite a mettersi in salvo. Lo yacht, lungo 47 metri, era stato avvolto dalle fiamme, partite dalla sala batterie e poi era affondato. Dopo le operazioni di rimozione del carburante prelevato dai motori avvenuta lo scorso agosto, si procederà dunque al recupero dell'imbarcazione con l'utilizzo di un pontone trasferito a Olbia da Cipro, lungo 136 metri e che rientra nei top di gamma mondiale. Verranno impiegati anche materiali all'avanguardia in arrivo nei prossimi giorni dall'Olanda. Il recupero è un'operazione abbastanza complessa che però ormai segue dei cliché strutturati nel tempo. Considerate che si tratterà di un'operazione che è in piccolo, chiaramente riprenderà molto le tecnologie e le tecniche impiegate durante il recupero della nave Concordia. E quindi il raddrizzamento, o parbuckling come si chiama, il recupero, in questo caso essendo un'unità più piccola verrà posizionata sul pontone che è già arrivato in porto da qualche giorno. Le operazioni, il cui costo è a carico dell'assicurazione dell'imbarcazione e che si aggira intorno a diverse decine di milioni di euro, coinvolgeranno circa 50 persone, comprese maestranze locali. Dopo il recupero, lo yacht verrà trasferito a Piombino per lo smantellamento. Sotto il profilo ambientale i rischi maggiori sono stati già dipanati nel mese precedente con l'operazione che viene chiamata defueling, ovvero sia l'eliminazione di tutto il carburante e i liquidi pericolosi che erano all'interno dell'unità. Questo è stato il primo passo, era quello più urgente da fare. Oggi il pericolo è decisamente limitato e nell'ambito della pianificazione che l'azienda ha effettuato è previsto anche un ripristino del fondale con l'eliminazione di tutte indistintamente le scorie, eliminazione che verrà fatta da una società decisamente seria, ma anche con la sorveglianza dei nostri subacquei.